Grazie. Allora, è un anno che si annuncia positivo, sappiamo una crescita del pilo importante, però si può fare di più, abbiamo il dovere di fare di più. Ci ricordiamo gli anni in cui si pensava fosse una cosa intelligente tassare le barche, dimenticandosi che banalmente poi le barche stanno sul mare e si spostano. Fortunatamente questo appartiene al passato, adesso dobbiamo investire su un settore strategico per il Paese, che è proprio la nautica. Per cui sosteniamo questo settore e per esempio, nella misura che stiamo predisponendo come Ministero del Turismo per aiutare il rinnovamento delle strutture ricettive, vogliamo inserire le marinerie, perché fanno parte del sistema ricettivo del sistema Paese e noi abbiamo bisogno del massimo della qualità in ogni punto del Paese. A seguire un incontro allo Yacht Club, il tema sarà la Ocean Race. Noi parliamo là. I lati che rimangono sul mio negozio. Ciao. Sono qui le 200 per ora. Buon giro e divertimento. Ciao. Buon giro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. 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 Ciao.